Carlo Ramono, scultore milanese, nasce a Milano nel 1925 e a Milano muore nel 2003. Questo significa che tutta la sua carriera si svolge in questa città e con i riferimenti alla cultura e una partecipazione prima all'ambiente culturale e artistico di questa città e poi arriva a intervenire nel tessuto urbano della città stessa. Ogni artista è una vita a sé e ha una vita propria, un proprio carattere, una propria individualità, una propria storia e questo ovviamente è il caso anche di Ramos. Però è anche vero che ogni artista fa parte di una comunità, a volte consapevole, diretta, altre volte indiretta, nel senso che un artista vive in un ambiente, in un humus culturale all'interno di un dibattito in una città, in questo caso una città molto particolare come Milano e alla fine con il proprio carattere, con la propria individualità finisce col partecipare ad una condivisione di cultura molto più ampia. Questo significa che Ramos è un artista che attraversa una delle stagioni più cruciali della scultura italiana del Novecento, una stagione che nasce dal confronto con una generazione di grandi maestri. A Brera è allievo negli anni Cinquanta di uno dei più grandi scultori italiani del Novecento che è Merino Merini. Ma significa anche poi smarcarsi da quell'insegnamento, da quella lezione e progressivamente cercare di fare i conti con il proprio tempo, attraversare quella che è la grande stagione dell'informale negli anni Cinquanta e successivamente arrivare a una dimensione più ampia e più articolata della scultura. In una formula si potrebbe riassumere il percorso di Ramos in un percorso che va dalla figura a una progressiva trasformazione, a una progressiva semplificazione della scultura in termini geometrici e successivamente architettonici. Tanto che la prodo finale del lavoro di Ramos è sulla scultura che va in piazza, quindi una scultura che si configura come vero e proprio segno urbano. Una scultura nasce come opera di progetto, una scultura che nasce per diventare un punto di riferimento dentro un tessuto cittadino e una scultura che deve fare i conti con una dimensione della scultura monumentale. Lo scultore intanto, se è di un certo livello, ha la presunzione di fare un'altra natura. Questa è la presunzione dei grandi artisti e io ce l'ho, buttata lì, senza presunzione, ho la presunzione di dire che io faccio un'altra natura. Non che io voglia rivaleggiare con la natura, ma non c'entra niente. Io appartengo alla natura e ho la capacità, la possibilità di farne un'altra. C'è un filone predominante nella produzione artistica di Ramos degli anni 50 e sono queste figure, figure di donne monumentali, in un certo senso arcaiche, che lo avvicinano in questo senso anche a Fausto Melotti, ai Manichini, ai Savi. Sculture quelle di Ramos, in cui il soggetto femminile è rappresentato in tutta la sua massa. Sono grandi donne in cui si esalta la plasticità, il valore della massa. La grande donna seduta fa corpo unico con la poltrona su cui è appoggiata, esprime autorità, ma nello stesso tempo ha uno sguardo un po' bislacco. Nel corso degli anni 50, nella scultura di Ramos, avviene un percorso di progressiva semplificazione in termini di scultura stratta. I suoi esordi, quando esce dalla scuola di Marino Marini, sono molto influenzati ancora dall'insegnamento del maestro, del maestro dei cavalli e dei cavalieri, ma al tempo stesso risentiva dei flussi della grande scultura internazionale. Sono gli anni in cui in Italia si scopre la scultura di Henry Moore, che in certi casi vediamo che Ramos puntualmente cita nella sua scultura. Ma vediamo anche che presto il suo lavoro va in un'altra dimensione. La figura umana sembra in qualche modo essere progressivamente inglobata dentro la materia e Ramos comincia a fare un lavoro che entra pienamente nel discorso della scultura informale, quindi una scultura fatta di segno e di materia, una scultura fatta di profili frastagliati, una scultura che va vista a luce radente, in cui si mostra la sensibilità epidermica di una superficie scabra, di una superficie ferita. A Milano si discuteva in quegli anni della sintesi delle arti, cioè della possibilità che l'architettura come arte dello spazio tridimensionale inglobasse in un certo senso dentro di sé l'arte e che l'arte a sua volta potesse condizionare in maniera favorevole il discorso dell'architettura e della sua collocazione nella città. A sua volta, dovremmo fare, come dire, per comprendere il senso di questo dibattito, ancora un passo indietro, spostarci cioè grossomodo nella prima metà degli anni 30. Ricordiamoci che nel 1933, quando si inaugura la triennale nel nuovo edificio di Muzio, viene lanciato proprio a Milano e proprio della triennale il manifesto del muralismo, con cui grandi pittori come Sironi avevano rivendicato l'arte e la necessità di una funzione sociale e comunicativa. Quindi l'arte doveva abbandonare l'atteriere dello scultore, doveva abbandonare la tela, doveva abbandonare in sostanza la sua caratterizzazione borghese per andare incontro al mondo e spalmarsi sui muri degli edifici per raccontare, diciamo, le vicende della nostra storia sociale. Ovviamente gli anni 50 non sono gli anni 30. Se gli anni 30 sono gli anni del regime fascista, della centralità dello Stato, dell'emblematicità, del potere centrale che costruisce edifici come se fossero delle propaggini della città, gli anni 50 sono gli anni della Repubblica, sono gli anni della democrazia, sono gli anni dell'edilizia che diventa più domestica e meno monumentale. Eppure non di meno in quegli anni assistiamo a una serie di collaborazioni stupefacenti che ancora oggi caratterizzano il volto della città di Milano. L'interesse per la città, per lo spazio urbano e per l'architettura si misura in Ramon in alcune opere molto significative, dove lui lavora con architetti e con ingegneri. È il caso del rotocalco ambrosiana Cinisello Balsamo della fine degli anni 50. Qui lavora con l'ingegner Tullio Pacciaider. Riesce a trattare la superficie della facciata e si vede proprio un'ombra, che è quella di un'ombra umana, ricavata sulla facciata, ma non ad emergere, bensì a togliere. Questa è una caratteristica di Ramon che poi ritroviamo, espressa ancora in una dimensione maggiore, nella stamperia di Cino del Duca a Bluà. Il più specifico del suo rapporto con l'architettura sta nel suo rapporto con gli architetti, con Mario Tedeschi, con l'architetto Mario Tedeschi che era un architetto di seconda generazione e razionalista. Apparteneva alla generazione di Vico Magistretti, con cui aveva collaborato proprio con una delle prime opere dopo guerra, la chiesa di Santa Maria nascente a Cutiotta a Milano, che alla fine degli anni 50 si trova a dover realizzare due chiese nel Interland di Milano, la chiesa di Santa Marcellina e la chiesa di San Giovanni Bosco e chiede la collaborazione all'amico scultore. Qual è il grande salto, qual è il salto in più che Ramon fa rispetto alla tradizione a cui alludevo prima? Lo vediamo chiaramente dall'immagine appunto che è qui alle mie spalle. Se Sironi, per dire, aveva inserito i suoi grandi tasselli scultori dentro la trama dell'architettura di Muzio, se Giacomo Manzù aveva decorato i portali di Muzio della Casa Bonaiti e Piazza Repubblica o anche i portali dell'Arengario, qui ci troviamo di fronte a una presa di possesso totale dell'architettura. Cioè nel senso che quando noi vediamo questa facciata ci chiediamo, dobbiamo chiederci, ma questa facciata è una facciata che ha disegnato Tedeschi e lui ha decorato, oppure questa facciata è un atto strutturale dell'architettura, cioè la scultura diventa essa stessa una struttura architettonica. Quindi qui non abbiamo degli elementi che sono applicati alla parete, alle pareti, ma sono delle pareti che diventano sculture. Tullio Pacciaier era amico di Carlo Ramon e lo coinvolge in questa operazione. Rispetto alla rotocalco ambrosiana, cinisello balsamo vicino a Milano, qua riescono a trovare una maggiore, la scultura si estende sull'intera facciata e che si sviluppa in lunghezza. Sono gli uffici di questa grande stamperia. Il tema molto interessante, che poi avrà la sua, possiamo dire, esplosione massima, la sua apoteosi nella grande, nella lunga facciata delle rotative vicino del Duca a Bluat. Quindi questo grande salto qual è? È quello di pensare che la scultura ormai è diventata così matura, non dico potessi sostituire l'architettura perché sarebbe ovviamente sbagliato, ma da poter diventare la stessa architettura oppure ambire ad essere considerata architettura. Quindi in questo caso il rapporto della collaborazione che prima vedeva, come dire, l'artista era soggettata all'architetto, cioè l'architetto costruiva il frame e l'artista inseriva dentro questo suo frame la sua opera. Qui invece abbiamo che il frame si è dissolto e l'opera si è dilatata ed è diventata la stessa frame, è diventata la stessa struttura. Questa palazzina per uffici rischiava, proprio parlo del 2016, di essere demolita. Come soprintendente di Milano mi sono sentita coinvolta nel cercare di proteggere, cercare di fare qualcosa affinché questa opera di architettura e scultura non andasse perduta. Ora io dal niente sono riuscito a fare tutto quello che tu hai visto. Tutto con la serie sono 125, poi ci saranno 100 quadri. Tutti in questa maniera automatica. È stata un'educazione, cioè io non ho creduto più a quello che il mondo mi dava e sono andato a cercare nel profondo quello che mi era rimasto, che andavo scoperto. Il passaggio radicale che segnerà proprio un punto di cesura dentro questo percorso avviene nel momento in cui Ramon decide di abbandonare la scultura in bronzo, quindi di abbandonare la modellazione e di progettare un nuovo modo di fare scultura attraverso il ferro, il ferro laminato. Ferro che gli permette di costruire dei veri e propri volumi geometrici, ma soprattutto che lo porta a una nuova apertura. La scultura nasce a questo punto come bozzetto. Lo scultore al pari di un architetto e soprattutto un grande progettista che realizza qualche cosa pronto a poter essere poi portato a dimensioni più grandi. Non è più l'autore che interviene direttamente sul pezzo unico, ma è un grande capocantiere che progetta qualcosa che poi punta ad avere una destinazione di più ampio respiro. Potremmo considerare attraverso queste e altre opere da lui realizzate, oggi sistemate in diverse località, anche in altre parti del mondo, come Ramon mettesse da sempre anche in discussione il concetto di monumento. E proprio su questo aspetto l'opera di autori come Carlo Ramus e non solo, penso anche ad altri artisti italiani come Mauro Staccioli, Nicola Carrino e altri ancora, hanno riflettuto sul modo di superare il concetto chiuso di monumento aprendo la forma scultorea alla relazione con lo spazio urbano e con lo spazio sociale. Vediamo che Ramus arriva attraverso la realizzazione di piccoli bozzetti alla scultura di scala urbana, una scultura di scala urbana che in qualche modo deve entrare in rapporto, in competizione con l'architettura e reggere soprattutto l'urto del rapporto fra la scultura moderna e le piazze, è uno spazio urbanistico antico, è uno spazio già connotato. L'architettura moderna diventa astratta, tende diciamo verso quello che si chiamava allora l'international style, tanto più la presenza degli artisti è chiamata a connotare in maniera specifica, in maniera determinata, col colore, con le forme, con i movimenti, con le luci, è chiamata a determinare gli spazi dell'architettura. La vicenda di Carlo Ramus è molto particolare perché? Innanzitutto perché lui comincia questa apertura quando questo ciclo si esaurisce, quindi in un certo senso il suo interesse per l'architettura è postumo, perché ovviamente è una generazione molto più giovane degli artisti che ho citato, però è anche il segno di una espansione, cioè di un ulteriore balzo in avanti. E qual è il senso di questo balzo in avanti? Probabilmente sono due che si riflettono sia nella sua attività propriamente di scultore che in quella di scultore architetto o scultore con architetto. Le sue opere, come quella che vediamo in questo bozzetto, come quella che si può vedere in Piazza Conciliazione qui a Milano, sono delle opere di grande impatto, sono sostanzialmente dei monocromi neri, quindi diciamo hanno un senso astratto ed assoluto. In qualche maniera mi è anche venuto di pensare che questo frammentismo di linee curve, distorte che lui accumula nello spazio siano quasi un po' corrispondenti allo spazialismo dei neon di Fontana, quindi come Fontana fa vorticare il lazzo del neon della luce per cogliere lo spazio, per intrappolare lo spazio, lui costruisce queste sciabole che tagliano lo spazio e indicano delle direzioni, quindi quasi, come dire, geometricamente indicano X, Y, Z, le tre direzioni tradizionali dello spazio. E in qualche maniera anche si può pensare che queste sculture saette, perché sono come dei fulmini che siano caduti a terra e cadendo a terra, diciamo, siano esplosi e determinano dei frantumi. Queste sculture cercano violentemente un rapporto con la città. Questa tensione dell'opera di Ramos verso il rapporto con l'ambiente è da intendersi in senso sia scultorio sia architettonico. Voglio dire, si può parlare di queste forme sculture che necessariamente vivono del rapporto con l'ambiente urbano, sia che si tratti di quello periferico o poco caratterizzato, ma anche quello del cuore della città e del rapporto con le strutture più definite in senso storico, come di un'architettura pura, in quanto potremmo ricorrere al riferimento che diede Casimir Malievici quando negli anni venti pensò, immaginò, dei utopistici progetti di planiti, cioè di forme plastiche di grande dimensione architettonica, prive però di alcuna funzione architettonica. Non è questo il caso di una scultura come quella di Carlo Ramos, che pur essendo legata a dei rapporti con una tensione anche costruttiva, cioè produttiva, di forme, è generata in maniera gestuale, in maniera quasi improvvisata, è poi tenuta, bloccata, come un gesto dinamico, ma la dimensione, il carattere che ottiene proprio nella sua relazione con l'ambiente circostante, è di natura tanto scultorea quanto architettonica. Il percorso di Ramos si può riassumere in una trasformazione dalla scultura di modellato, da una scultura tattile, fatta per dare la percezione di poter essere toccata a una scultura puramente grafica, una scultura che diventa un vero e proprio disegno. Nel 1974 Ramos espone a Milano, in Piazza del Duomo, sette grandi sculture realizzate in ferro. A Parma vengono portate cinque di queste sculture per essere esposte in una mostra personale dedicata a Carlo Ramos. Questa mostra non viene eseguita, per cui le sculture rimangono in deposito a Parma. Dopo molti anni e dopo una ricerca abbastanza difficile, sono state recuperate e sono state trovate abbandonate e più volte spostate, fino a quando non sono state buttate con le forche dei muletti e delle ruspe in un campo per essere praticamente distrutte. Io le ho trovate in queste condizioni. Impossibile da recuperare, impossibile da pensare di fare qualsiasi roba, però come sempre accade, nascono delle sfide con se stessi e vedendo delle opere buttate via, di cui vedendoli in quelle condizioni, devo dire che mi sono messo anche a piangere. Ho fatto un modo per recuperarle. Allora coinvolgendo degli amici, delle robe, sono riuscito a recuperare questi rottami. Con i rottami potevo fare ben poca roba. Allora tramite la famiglia, tramite un altro collezionista, sono riuscito ad avere i bozzetti di queste sculture qui. E dai bozzetti sono riuscito a, ridisegnandole, ribettendole insieme, facendo delle prove e tutto quanto, e quindi eseguendo quello che lui, Carlo D'Amou, faceva con i fabbri di allora, sono riuscito a recuperarle e a ridare nuova vita a tre di queste cinque sculture. A Milano, in occasione del rifacimento e della creazione della nuova metropolitana 5, in una piazza dove avevano previsto di realizzare un parcheggio, trovando non adeguata la sistemazione della piazza, ho proposto al comune di sistemare questa scultura in questa piazza. Quindi ho ridisegnato la piazza e siamo riusciti a creare, in una periferia buona di Milano, un ottimo giardino, piuttosto che un squallido parcheggio. L'uomo è il senso della gravità, l'orizzonte. E' l'uomo che ti stabilisce cos'è l'orizzonte. Una scultura senza orizzonte non è scultura, non è inserita nel mondo, è fuori dal mondo. Abbiamo un orizzonte, noi siamo degli animali eretti, e quindi abbiamo un orizzonte, e noi appoggiamo i nostri piedi sull'orizzonte, il piano nostro, questo è l'orizzonte. Ora, lo spazio, la porta. Con l'uomo, ma tutto è prodotto di tutto. Il rapporto dell'uomo natura, dell'uomo spazio. Tutto, tutto. Non c'è niente senza questo. Se eliminiamo all'uomo, allo spazio, all'intorno, non c'è l'immaginazione, non c'è la poesia, non c'è Dio, non c'è niente. Tutti i rapporti nascono dall'uomo, dall'esistenza. Marchiori scrive I netti profili delle sculture di Rameau devono disegnarsi in uno spazio ampio, per esempio, nello spazio del paesaggio urbano. Esiste un singolare rapporto tra queste sigle monumentali e lo sfondo anonimo delle periferie cittadine. I ferri di Rameau costituiscono, in un simile spazio, assunto ormai a simbolo di un modo di vivere e di pensare, un magico richiamo alla fantasia, un contrapposto originale alle consuetudini visive, alla normalità ovvia e livellatrice della vita collettiva. Essi sono infatti delle traduzioni plastiche, invigorose strutture metalliche, di alcune sigle grafiche o dei segni di una bizzarra scrittura. Grazie a tutti.